Che Lance Trio Leggermente discosti all'ala l'Indio P e l'Euce degli Dei all'estrema destra Piano Linoz Allo stacco Lance Trio non impiega molto a scendere alla corda Avanti a Lisbona Ors che ha a sinistra l'Iaro M Il quale concede strada Bocco della prima piegata, i due cento iniziali in tredici e mezzo Lance Trio bello attaccato alla mano, stiracchia anche lui A due lunghezze in margine a metà della prima curva nei confronti di Lisbona Ors Più indietro rimane l'Iaro M a precedere l'Ampione L'errore di l'Indio P alla retroguardia sono l'Inoz e l'Euce degli Dei 28,7 i quattrocento iniziali, meno di 1,12 al chilometro Lance Trio mantiene il margine inalterato al passaggio davanti alle tribune Nei confronti di Lisbona Ors a quale si accontenta di seguire lo scatenato leader Ai 600 in 44 e mezzo, la via del largo presa da Lampione Seguito a distanza dall'Euce degli Dei Va per tenersi a destra libera Lisbona Ors all'imbocco della seconda curva Lampione insiste però all'esterno la copre interamente gli 800 Intanto a parte il Lance Trio nell'ordine del minuto e quattro decimi 31,7 in seconda frazione, Lance sempre con 1,75 in margine nei confronti Ora di Lampione che ha sopravanzato Lisbona Ors il giro di gara in 1,15,2 Ha finito di andare via di gas, Lance Trio e deve prepararsi a fronteggiare Lampione Il quale viene via con passo deciso, cattivo e convinto all'imbocco a piegata finale Prende margine sul Lance Trio, più indietro è Lisbona Ors Avanti al resto della truppa che ha largo l'Euce degli Dei 14,6 l'ultimo paletto da dritta è la 29,3 in terza frazione A metà della piegata finale devono prendere Lampione In seguito a distanza da Lisbona Ors Dalla corda prova a venire via anche l'Iero M in anticipo Sull'Euce degli Dei ma solo per le piazze A 150 al termine perché Lampione è isolato in avanti E si allontana sempre più dalla compagnia Lampione come, quando e dove vuole Viene a vincere con non meno di una trentina di metri di margine Nei confronti di Lisbona Ors Al terzo termine all'Euce degli Dei Due minuti, due decimi, uno 15 e uno Con ancora molto del buono in mano Per Lampione e Marcos Morgonna Alla seconda vittoria in sei uscite in carriera Il figlio di Varenna centra il record in carriera